Una piattaforma d'incontro con video di idee, laboratorio di scrittura e di sperimentazione, è stato presentato ad Andria il Caffè Letterario, un progetto dell'associazione L'Altrove, patrocinato all'assessorato alla cultura e turismo della città di Andria. Una nuova forma di aggregazione giovanile studentesca ed intellettuale. Tutte le attività saranno svolte per favorire lo scambio di opinioni, di conoscenze ed esperienze. Una serie di incontri con almeno due appuntamenti mensili, dove saranno previste attività di studio, discussione, lettura e scrittura. Questa iniziativa appunto nasce da un'esigenza e da un sogno, quindi è quello di offrire ai giovani andriesi una piattaforma culturale dove ci si può confrontare seriamente sui temi attualissimi, temi di avanguardia letteraria, temi di avanguardia poetica, cose di cui molte volte non si ha l'occasione di parlarne. Se non tra gruppi ristretti. Il contenitore culturale propone di inserirsi nel contesto della città andriese, toccando alcuni campi del sapere e della produzione umana, come la letteratura, la filosofia, la storia, l'arte, le scienze, la musica, il teatro e il cinema, con costante riferimento ai classici del pensiero e delle avanguardie contemporanee in Italia e nel mondo. La possibilità di offrire quindi una piattaforma di incontro più ampia, più strutturata, dove ci sia la possibilità di accedere a delle risorse anche di, come posso dire, dei dati, di fornire delle riviste, di indirizzare anche le letture, e penso che potrebbe essere una cosa veramente molto molto interessante. Inoltre, una cosa fondamentale, ci tengo a sottolinearlo, è il fatto che tutto il lavoro finale verrà raccolto poi in una pubblicazione, in una rivista letteraria abbinata al caffè letterario. Quindi questa è una cosa importante, perché lasciare una traccia del lavoro che si fa, in un certo senso, nobilita il lavoro precedente. Grazie. Grazie.